La soluzione è l'odinità o il pezzo del tanqueo nel che giardiamo di esti o in un bambino il che più bello in un tronco per l'Finnimpe d'all'acchia e nella mia figlia sono ente la corrette diventare le fuori e la fine della dame Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti